Non appena stabilito il contatto dobbiamo dare atto al Presidente Campione e allo staff che lo collabora della massima sensibilità ad affrontare il problema e a dichiararsi disponibile perché in questo prossimo incontro testifissato il problema venga affrontato e speriamo risolto nelle forme e con la leggerità dovuta. Noi siamo stati colpiti e allarmati, messi su allerta circa 15 giorni fa nel momento in cui su parecchi quotidiani nazionali è apparsa la notizia che data la incapacità di spesa della regione siciliana circa 1800 miliardi sarebbero stati dirottati verso la Lombardia. Tra i fondi dirottati comparivano appunto quelle destinate alla realizzazione della variante alla 115 Vittoria Comiso-Racusa. Noi di questo ci siamo profondamente allarmati e abbiamo proprio nel Consiglio discusso, dibattuto e i gruppi tutti all'unanimità avevano deciso di chiedere un incontro sollecitamente con il Presidente della regione per fare chiarezza su questo, per vedere quali potevano essere le regioni o le motivazioni. A noi è dispiaciuto perché gli altri gruppi non abbiano partecipato a questa iniziativa. Li abbiamo anche invitati a discutere assieme altre o alternative forme di protesto e di sollecitazione, però noi ritenavamo che l'esigenza di un'azione forte in questo momento potesse servire. Io dico che noi come PDS sì abbiamo iniziato questa iniziativa, ma la presenza in questa sala in questo momento da parte dell'onorevole Gurriere e quindi per autorevole rappresentante del suo partito ci conforta che tutto sommato in questa azione di lotta è iniziata dal partito democratico della sinistra, comunque ha avuto un ruolo importante e ha partecipato attivamente anche la democrazia cristiana, anche se non nella forma ufficiale, ma comunque con un suo deputato. Questo ci conforta e ci dimostra che tutto sommato quando le sinergie, quando le forze popolari, le grandi forze popolari di questa provincia si uniscono e lavorano assieme, si può ottenere qualcosa di concreto in favore della nostra provincia. Con la nostra azione siamo riusciti finalmente ad ottenere l'incontro col Presidente della Regione che come è stato detto probabilmente non sarà stato avvisato in tempo utile del telegramma che il Consiglio provinciale nella sua unanimità aveva inoltrato. Io ritengo che bisogna anche sottolineare un altro fatto, il fatto che quando ci si ritrova di fronte a un problema che investe non solo il territorio nel suo habitat, il suo modo di essere, ma investe anche l'occupazione di questo territorio. Quando si parla qua di miliardi che devono essere spesi per opere pubbliche, si parla anche di gente che lavorerà. È chiaro che il momento è difficile, il momento è drammatico sotto tutti i punti di vista, per cui ogni piccola risorsa finanziaria che si vede all'orizzonte va a difesa dei distretti. Ebbene hanno detto gli amici che i colori politici debbono scomparire necessariamente, non ha senso la divisione del partito contro partito quando ci sono gli interessi della collettività da difendere. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io penso che tutti hanno chiaro qual è oggi questo percorso, in quale condizione versa. e ritengo che di dimostrare con questa attività quella possibilità che collegandosi con i problemi reali della provincia, della popolazione amministrata, allora in questo stesso momento si allontanano tangentopoli, si allontanano momenti spettri come può essere la disoccupazione e si avvicinano invece il modo di come realmente dimostrare che i politici non sono tutti dei truffaldini e che i politici possono fare il suo compito facendo quello che realmente dovranno fare. Quindi al di là della vicenda personale, voglio dire, quando si assume un impegno di rappresentare interesse della collettività non ci si può tirare indietro, nel momento in cui emerge che è necessaria una iniziativa che vada oltre l'ordinario. Per cui quando il PDS stamattina ha proposto di arrivare a questa forma di lotta per sbloccare la situazione è chiaro che ciascuno di noi ha ritenuto che fosse una cosa da portare avanti e quindi anche per quanto mi riguarda nonostante la prima giornata, come lei ha detto, è una giornata unca piena e certamente è una giornata che va ricordata da parte mia oltre che per l'impegno normale in Consiglio Provinciale anche per questa coda che fortunatamente almeno fino a questa sera si è risolta bene, nel senso che l'iniziativa ha sortito l'effetto di avere una convocazione da parte della Presidenza della Regione. Buonasera, ospite della trasmissione Rotonova Cultura, Giuseppe Di Giacomo nella sua nuova veste di romanziere o comunque di scrittore in prosa in quanto Giuseppe Di Giacomo è stato anche intervistato da Telenome e varie circostanze dalla sua qualità di assessore alla cultura e bene culturale di Comiso ed è stato ospite in varie circostanze sia nella sua qualità di attore sia nella sua qualità di autore diversi di poeta, poeta che ha vinto dei premi anche importanti come Massarosa e il Calliope e poi autore di tre libri di poesia con l'editore Sciascia. Ora, ecco, Giuseppe Di Giacomo in questi giorni è autore di un libro che si avvia ad essere un best seller e che si trova in tutte le librerie, in tutte le edicole, un libro dal titolo veramente così non so come dire preoccupante, solleticante, inquietante Salvatore Reina, io non sono il boss. Per cui noi per prima cosa chiediamo a Pippo Di Giacomo, Pippo per gli amici e noi siamo carissimi amici da parecchi anni, oltre che collaboratori in varie circostanze ecco, io comincio chiedendo a Pippo Di Giacomo tu sei o non sei il boss? No, io non sono il boss, lo giuro. Tu non sei il boss. Ecco, intanto è stabilito una cosa, che tu non sei il boss. E sei o non sei Salvatore Reina? No, non sono nemmeno. Non sono nemmeno Salvatore Reina. E in ogni caso, se tu sei Salvatore Reina, quale dei due Salvatore Reina sei? Ecco, al problema... Poi spiegheremo, ecco, facciamo, tipoggiamo, facciamo. Appunto, ha parzialmente risposto il nostro comune amico Antonio Vigrado, professore di lettere all'Università di Catania, il quale, avendo ricevuto il libro, ha pensato di farmi un gradito omaggio mandandomene uno suo, e nella dedica si complimentava con me e con Totò R. Per la comune fatica. Non essendo probabilmente, simpaticamente, riuscito a decifrare qual è la realtà che sta sotto il romanzo. E' una domanda che mi viene posta frequentissimamente in questi giorni, cioè la vera identità del personaggio che viene descritto in questo romanzo. O meglio, per tradurla ancora in termini più semplici, se questo personaggio esista veramente oppure no. E' una domanda che mi muove la gente, che mi hanno mosso le più grandi testate giornalistiche e televisive, e una domanda che mi lascia molto perplesso e mi fa molto riflettere. Intanto per un motivo, cioè evidentemente la cosa è resa in termini realistici, per cui si è portati a pensare che il personaggio omonimo del boss Totò Rina, protagonista, eroe delle mie vicende, possa essere un personaggio reale. Ora, io evidentemente so la verità, ma non voglio rivelarla, proprio perché rivelare l'identità di questo personaggio è un po' come, diciamo così, sminuire la capacità di elaborazione del lettore stesso che a mio parere deve rimanere libero di interpretare la cosa così come vuole.